Buonasera, buonasera a tutti, eccoci in una location davvero suggestiva, bella, tra un po' vi presenterò una bellissima ragazza che ci accompagnerà questa sera e spero anche nelle prossime puntate in questo percorso rosso-blu che ci condurrà da qui alla fine del campionato sperando che dal prossimo anno ci interesseremo di altri campionati, non più di quello di Serie D. L'autolavaggio San Marco di Andrea Bettelli che è nascosto tra il pubblico, ma gli facciamo un applauso perché così impara, ma io prima di dirvi i nomi di Daniele Ferretti e di Giacomo Volpe, perché non posso dirveli i nomi dei nostri due ospiti e nemmeno che Elia Grilli e Emanuele Grilli sono i nostri opinionisti, vi devo dare una chicca. Questa sera è con noi Stef, no, Antonio, Giovanni, Elisa Ragni. Un grosso applauso, buonasera, buonasera. Il nome Elisa si presta anche a una battutaccia che viene da Norri Vombrosa che quella circolerebbero, da Valle Vombrosa, ma invece in realtà è Eugubina, una bellissima ragazza, buoni, c'è fidanzato tra il pubblico, per cui è Ubi Maior Minor Cessat. A te il microfono in bocca al lupo perché è stata tua avventura televisiva che sarà sicuramente costellata di tanti successi. Ancora un applauso. Grazie, grazie mille. Buonasera a tutti, siamo qui all'ottava puntata di Cabina Stampa Sport. La trasmissione ovviamente è in diretta, possibilmente visibile in tutto il mondo, attraverso il sito www.cronacagubina.it. Ripeto, siamo qui ospiti, grazie ad Andrea, alla tavolaggio di San Marco, dove è possibile ovviamente, oltre al lavaggio, usufruire di un servizio esterno di snack, panini e bibite. Quindi, se non andiamo errati e se ho ben capito dalla tua lucidissima esposizione, venite all'autolavaggio San Marco, lasciate la macchina ad Andrea e i suoi collaboratori, che ve la lavano, ve la puliscono, la profumano, io avrei bisogno Andrea tra l'altro, ma nel frattempo avete magari voglia di farvi uno snack, bere una bibita, insomma diciamo che diventa un modo diverso, un modo più rilassante di aspettare quella mezz'ora, quei 40 minuti che sono necessari per fare un lavaggio accurato. Esatto. Allora, come di consueto, anche questa sera parleremo dello specifico girone E di Serie D, dove ovviamente milita il Gubbio. E chiaramente parlando del Gubbio, a questo punto ci sta, che noi presentiamo con un applauso Daniele Ferretti. Buonasera. Lui ormai è un volto quasi noto, perché già qualche volta che ci viene a trovare, ma lo accogliamo sempre con grandissimo entusiasmo, grande affetto, è un bravissimo ragazzo, ma in questo caso è un bravissimo portiere. Giacomo Volpe. Buonasera. Potrebbe bastare qui in realtà, no, perché ci abbiamo due opinionisti, Emanuele Grilli. Buonasera, buonasera a tutti. Questo lo conosco bene, Elia Grilli. Buonasera. Allora, Riva Ombrosa, Valle Ombrosa, no. Prego Elisa, i risultati, la classifica e il prossimo turno, tutto d'un fiato, così non ci pensiamo più. Va benissimo. Allora, i risultati della diciannovesima giornata sono i seguenti. Foligno, Città di Castello, 1 a 0. San Giovannese, Colligiana, 0 a 0. Ghivizzano, Gavorrano, 1 a 2. Sansepolcro, Qualdo, Castacastalda, 2 a 0. Gubbio, Giolli, Montemurlo, 1 a 0. Massese, Pianese, 0 a 0. Poggi Bonzi, Ponzacco, 1 a 2. Scandicci, Montecatini, 3 a 1. Viareggio, Voluntas e Spoleto, 4 a 1. Mentre per la classifica Gavorrano, 37 punti Montecatini, 35 punti Gubbio, 34 punti Ghivizzano, Giolli, Montemurlo, Foligno, 32 punti Colligiana, 30 punti Poggi Bonzi, San Giovannese, Ponzacco, 28 punti Viareggio, Città di Castello, 25 punti Pianese, 24 punti Sansepolcro, 18 punti Gualdo, Casacastalda, 17 punti Massese, Scandicci, 16 punti Voluntas e Spoleto, 9 punti In attesa di sapere quale sarà il prossimo turno Io colgo, così intanto la nostra Elisa tira un po' il fiato Io vorrei sentire subito Daniele Questo bellissimo 1 a 0 contro il Giolli Montemurlo Quanta soddisfazione professionale ti ha regalato? È stata una bella partita Comunque sia una partita importante Di quelle toste, di quelle che ce ne capiteranno ancora tante Da qua alla fine Ci eravamo prefissati che comunque dal giorno di ritorno C'erano 17 finali, ora ne mancano 15 Affrontiamo tutte le squadre allo stesso modo Giolli Montemurlo, Gavorrano Tutte quelle che ci sono adesso in fila Le affrontiamo tutte allo stesso modo come se fossero le finali Perché siamo arrivati al punto che questo girono di ritorno Non possiamo lasciare niente per strada Giacomo Volpe per la seconda domenica consecutiva È stato uno spettatore in campo Perché non ha dovuto compiere interventi di ordinaria amministrazione E per chi come noi, come mio figlio per il giornale dell'Umbria Come Emanuele per Cronaca Gubina Deve fare la pagella del portiere la domenica Quando non compie alcun intervento Visto che non si può dare NG Come avevo io sulle pagelle Ma non perché non giudicavi Nel senso che io proprio non ci andavo a scuola Non si può dire Diventa difficile perché Gli abbassiamo la media dandogli 6 Perché non hanno fatto niente Magari è un portiere che in realtà Come io sono profondamente convinto Vale 8 Giacomo comunque forse è meglio prendere 6 in pagella Fare lo spettatore che prendersi 9 Magari e perdere la partita Sì assolutamente Due partite che la sto guardando Però sono contento Sono soddisfatto perché prima del mio rendimento Viene quello della squadra Quindi come hai detto te è meglio vincere 1 a 0 E non toccare mai il pallone Che perdere 3 a 2 E fare 3 o 4 belle parate Poi è chiaro Quando verrò chiamato in causa Cercherò di rispondere sempre presente Ecco il rischio magari che non ti devi arrugginire Devi essere sempre pronto Ma c'è Giovanni Pascolini che ti tiene ben oliato Emanuele Sinteticamente Quanto è giusta la vittoria del Gubbio E se è meritata contro il Gioli Montemurlo? Sì è stata una vittoria senza dubbio meritata Alcuni possono essere tratti in inganno Dal fatto che abbiamo vinto 1 a 0 Ma il Gubbio ha giocato nettamente meglio rispetto a Montemurlo Non ha praticamente sofferto mai E ha saputo concretizzare l'occasione che ha avuto Diciamo che il risultato ci va stretto Però comunque come appena detto non abbiamo mai sofferto E questa è una cosa molto positiva Contro il Gioli Montemurlo Elia si è avuta la sensazione Che quando il Gubbio gira È di un'altra cilindrata Assolutamente sì Rispetto al discorso di Emanuele Infatti sono d'accordissimo con lui Ecco forse magari Se uno vuole proprio trovare il capello Si poteva dire che si poteva concludere meglio Invece di lasciare in partita il Montemurlo Però questi sono discorsi che non hanno senso Anche perché il Gubbio ha dimostrato di essere padrone del campo Dall'inizio alla fine E per concludere questo primo spezzone di trasmissione La nostra Elisa ci legge Le partite in programma per il prossimo turno Allora il prossimo turno che è previsto quindi per domenica 17 gennaio È il seguente Sansepolcro, Scandicci Gioli Montemurlo, Città di Castello Ponzacco, Foligno Gualdo, Casacastalda, Ghivizzano Gavorrano, Gubbio Voluntas e Spoleto Massese Pianese Poggi Bonzi Montecatini San Giovannese E Colligiano a Viareggio È scontato dire che il Big Match è proprio a Gavorrano Tra Gavorrano e Gubbio Ma su questo ci sentiremo tra poco Con altri due giocatori ospiti telefonici